Ciao a tutti! Vogliamo fare un esperimento frizzante? Oggi confieremo un palloncino senza soffiarci dentro. Impossibile? Non soggiamo la scienza. Per questo esperimento ci serviranno due dita di aceto, più o meno due cucchiaini di bicarbonato, un palloncino, una bottiglietta vuota e un imbuto. Allora, per prima cosa dobbiamo versare dentro il palloncino i due cucchiaini di bicarbonato. Uno, due, io ne aggiungo anche un tasso, un po' più piccolo. Ok. Ora, cercando di non farlo cadere, lo posiamo e puliamo molto bene l'imbuto. Una volta pulito l'imbuto, per bene, dobbiamo versare dentro la bottiglietta e due pulchie e le due dita di aceto. Iniziamo. Un po' di più. Ok. Così va bene. A questo punto dobbiamo togliere l'imbuto, posarlo, cercando di non far cadere, e versare dentro, cioè, mettere sopra la bottiglia il palloncino. Ora, tiriamo sul palloncino versando dentro ed ecco che il palloncino si gonfia. Tutto ciò è accaduto grazie ad una reazione chimica. Queste bollicine sono tutte anidride carbonica, pure quelle che ci sono nella nostra acqua frizzante. Queste hanno gonfiato il palloncino. Devo dire che è molto bello. Ciao! Ciao!